Quando un qualcosa che ci è caro ci lascia, ci abbandona, se ne va, noi siamo tristi, arrabbiati, a volte disperati, proviamo un senso di vuoto, un senso di perdere qualcosa, di abbandono, allora è tutto un cercare negli angoli delle nostre vite, sui tavoli, nelle scansie del nostro mondo, nelle nostre tasche piene di fazzolettini usati, di biglietti scaduti, ma quello che cerchiamo non lo ritroviamo più. Lei mi ha lasciato un'ora fa, e io non la rivedrò mai più, è passato molto tempo ormai, ogni volta è sempre così, forse c'è un mistero in me, che non riesco a spiegare, un qualcosa di oscuro nell'aria, un segreto impossibile, uno scherzo, una beffa, un destino, non so, un incastro crudele, forse un filo nascosto, perché ve ne andate prima o poi, perché mi lasciate, ma alla fine mi arrendo, perché una risposta non c'è, no, no, non c'è. Ma dove vanno a finire le biro, forse in un posto nascosto del mondo, forse lo fanno per prenderti in giro, e ti lasciano nel dubbio profondo, ma io domani ho deciso, sì domani ho deciso, io domani ho deciso, ah ah, io domani ho deciso, ne compro cinquanta. ma dove vanno a finire le biro, forse in un posto nascosto del mondo, forse lo fanno per prenderti in giro, e ti lasciano nel dubbio profondo, e io domani ho deciso, sì domani ho deciso, domani ho deciso, ah ah, io domani ho deciso, ne compro cinquanta, e a te non te la do, e a te non e a te non te la do, e a te non te la do, e a te non te la do. Ma dove vanno a finire le biro, per la tua, io domani ho deciso, ah 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 E a te non te la do 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 Grazie a tutti.